Grazie a tutti. Che hanno funzioni simili perché tutte e due servono, aiutano a scambiare, aiutano il contatto e lo scambio tra persone e allo scopo di comunicare oppure di avere dei rapporti di vario genere economico. Ma anche di comunicare per quel che riguarda la moneta perché la moneta ha anche una sua funzione di messaggio. Siccome passa di mano in mano subito coloro che governano hanno capito l'importanza di averci per esempio la loro immagine. Come il linguaggio la moneta può avere una quantità di ambiti, cioè può essere divisa. Ci possono essere tante monete, ci sono tante lingue. Naturalmente ci potrebbe essere sia una lingua universale che una moneta universale. Cioè se non si ha una vera moneta universale, un vero linguaggio universale, cosa abbiamo? Abbiamo che si diffonde una moneta di uno Stato in un ambito territoriale molto grande, che viene adoperata da ogni sorta di gente e si diffonde una lingua allo stesso modo. E noi viviamo al tempo dell'inglese del dollaro prima della sterlina. Prima di questo, per esempio, c'è stata la romanizzazione dell'Europa che è stata sia linguistica che monetaria, oltre che politica. Perché lo dico? Perché un'altra cosa da tenere a mente è che non ci sono delle differenze molto importanti tra il parlare, trattare argomenti di moneta internazionale e quello di parlare di argomenti di moneta territoriale, interna, nazionale. L'idea che ci sia stata prima una fase materiale della moneta, cioè ci sia stata una progressiva smaterializzazione, non è particolarmente... anzi la moneta metallica è un caso di materializzazione quando l'ambito degli scambi si allarga. E gli scambi si possono, si devono fare tra persone che si conoscono poco, tra estranei, e quindi c'è bisogno di qualche cosa, di materiale metallico e c'è un valore intrinseco. Quindi la moneta porta a spasso il valore contenuto in se stessa, sotto forma di questi dischetti di metallo. Però l'uso dei metalli come moneta ormai c'è più di 2000 anni e ha funzionato per la gran parte del tempo che abbiamo usato monete sia a livello nazionale che internazionale. La presenza di monete di metallo prezioso coincide sempre con, quasi sempre, con gli stessi metalli, che sono l'oro e l'argento. E quindi le condizioni di offerta, di produzione di questi metalli sono importanti, rilevanti ed esogene rispetto ai paesi che le adopterano. Quindi la materializzazione in forma di metalli preziosi, che si rileva perlomeno per i 2000 anni, unifica tutti i territori. E quindi se le monete metalliche hanno un loro contenuto intrinseco simile a quello di scambio, quello facciane, allora questo vuol dire che possono essere operati ovunque. E allora per un periodo, appunto, di quasi 2000 anni, abbiamo che la moneta è un fenomeno internazionale. E la nazionalizzazione dei sistemi monetari, la territorializzazione dei sistemi monetari, avviene molto dopo. Avviene, diciamo, nell'Ottocento, che è un secolo rivoluzionario per una quantità di motivi, compreso questo. C'è un elemento che io non vi ho ancora detto, ed è quello che riguarda le monete, sempre di metallo, ma di metallo vigne, che vale poco, che sono adoperate, tradizionalmente, nella gran parte dei casi, per far realizzare gli scambi di valore minuto, di entità piccola. E questo ambito rimane non particolarmente ben regolato da leggi per un lunghissimo periodo, fino appunto all'Ottocento, quando per il progresso tecnico si può venire a far risolvere un problema gravissimo, che è quello del costo di produzione e delle quantità prodotte delle monete. Un inglese chiamato Bolton riesce a costruire un maglio appunto a vapore, che riesce a produrre delle quantità indefinite di monete e allora si risolve il problema del fatto che fare una moneta di poco valore, fare una moneta di grande valore, in termini di mano d'opera, era la stessa cosa prima, e quindi costava molto, per cui le monete a scarso valore intrinseco, a nessun valore intrinseco, non c'era nessuno che le volesse veramente produrre, e poi dopotutto serviva ai bisogni di scambio, di mezzo di scambio di un'enorme parte della popolazione, quella più povera, e non era veramente regolata lo Stato. Adesso invece con questa innovazione tecnica diventa possibile. E da quel momento si può veramente costruire un sistema monetario nazionale. Questa è una novità importantissima, che si realizza proprio più o meno nel periodo in cui si realizza l'unificazione italiana, un po' prima o dopo, a seconda dei paesi. Ma alla costruzione di un sistema monetario nazionale si dedicano tutte o quasi tutte le autorità nazionali. E a quel momento viene pure a essere messa in dubbio la utilità di far che circolino in un paese e le monete di un altro paese. E subito dopo che si riesce a costruire finalmente un sistema monetario con delle regole comuni a tutti gli ambiti monetari e a regolare l'offerta di tutti i tipi di moneta da parte di uno Stato solo dell'autorità centrale dello Stato, ci si comincia subito a preoccupare delle influenze che vengono da fuori. Questa nuova costruzione è efficiente ma può essere resa inefficiente da eventi e da fattori esogeni come per esempio il permanere il persistere del cambiamento delle condizioni di offerta dei metalli o l'argento e il rame. Questi tre metalli non sono prodotti veramente in Europa e continuano a venire da fuori e le condizioni di offerta continuano ad essere al di fuori dei paesi europei però hanno forte influenze sugli eventi monetari interni dei vari paesi europei così che gli Stati cominciano a preoccuparsene a vedere se li possono affrontare questi problemi o da soli oppure insieme e in effetti fino a quando si vuole come si è voluto da parte della rivoluzione francese costituire un sistema cosiddetto bimetallico con tassi di cambio fissi tra la moneta argente e quelle d'oro e questo in particolare modo di organizzare una costituzione monetaria è difficile da mantenere da far vigere per un lungo tempo perché appunto le condizioni di offerta cambiano così spesso in maniera poco prevedibile pure e allora questa che è una politica monetaria attiva rispetto a quella che invece non si preoccupa dei tassi di cambio dei tassi di cambio fissi tra le varie monete delle varie di vari metalli e viene scelta dai francesi viene esportata dalle armate Napoleone rimane in una quantità abbastanza notevole di questi paesi occupati poi che si ritirano che finisce l'Europa napoleonica e si riesce a tenerla in piedi pur se un paese seguito da pochi altri cioè Inghilterra decide invece di dedicarsi di mettere il proprio sistema monetario su un piede di un solo metallo e questo è il famoso call standard ma dall'altra parte della manica e in un certo numero di paesi continentali invece ci si dedica a cercare di tenere fermi i tassi di cambio tra oro e argento e questo è una politica monetaria molto attiva da parte dei governi e che diventa difficile quando non ci sono solo delle variazioni che sono sempre state e che sempre hanno portato guai tra i prezzi relativi dei due metalli principali ma in particolare uno comincia a guadagnare o a perdere rispetto all'altro in maniera sensibile questo avviene prima per loro con le scoperte delle miniere in California attorno alla metà del secolo dell'ottocento e poi comincia a succedere invece in maniera molto più sensibile con l'argento a partire nel corso degli anni settanta pure dell'ottocento con una motivazione doppia una del progresso tecnico cioè che le miniere d'argento possono sfruttare meglio con dei sistemi che si inventano i metodi di sfruttamento che si inventano in quel periodo e poi perché l'unificazione monetaria tedesca avviene imitando l'Inghilterra quando la Prussia vince sulla Francia la guerra del settanta l'indennità che viene data dai francesi ai tedeschi per farli arretrare un miglio ogni istante soldi molto pratico verso la Germania la Germania essendo lontana da Parigi erano molte miglie e molti soldi a questo punto viene adoperata per creare un sistema monetario basato sull'oro dei problemi legati alle innovazioni ai cambiamenti tecnologici e anche alle grandi scoperte minerarie e ai grandi cambiamenti istituzionali del secolo XIX comportano una ribollire di teorie di posizioni diverse di politiche che hanno tutte da confrontarsi con questa situazione veramente molto diversa di quella precedente ci si confronta con cose che prima non c'erano questi confini monetari nazionali queste monete nazionali organizzate al sistema questa non accettazione delle monete straniere che prima circolavano regolarmente questo problema nuovissimo del crollo dell'argento perché le diminuzioni c'erano sempre ma qui veramente abbiamo che l'argento quasi non diventa non è più un metallo prezioso a un certo punto quindi tutte queste questo ribollire di avvenimenti comporta alla fine appunto verso la fine dell'ottocento una polarizzazione una polarizzazione verso il sistema aureo sistema aureo che passa da essere praticato solo dagli inglesi a invece essere reso il sistema legale di una quantità di altri paesi ora la bellezza del gold standard internazionale che ognuno sarà deciso da sé perché vuol dire che c'è un rapporto fisso tra la riserva d'oro della emittente le banconote e le banconote stesse non si può sgarrare tanto oro si ha in cassa tante banconote si possono emettere se l'oro in cassa diminuisce si diminuisce il numero e il valore delle banconote si aumenta si aumenta e alla fine ci troviamo con un sistema di cambi fissi che vale per tutto per una quantità di paesi del mondo molto elevata e che si è realizzata senza accordi internazionali ma perché proprio l'oro perché probabilmente la sterlina è diventata la moneta più importante nel mondo l'Inghilterra è diventato il paese esportatore di capitali per eccellenza quindi si facilitano questi investimenti si cercano di attirare perché servono la modernizzazione di tutti questi paesi europei e di altri paesi in altre parti del mondo la cosa rilevante invece è l'arrivo dei capitali inglesi e perciò li esportano in questo modo riescono a mettere Londra al centro del sistema finanziario internazionale e tale rimane la situazione fino alla prima guerra mondiale i veri protagonisti della rincorsa nei confronti dell'Inghilterra sono da una parte l'impero tedesco la Germania uscita dalla unificazione e dalla guerra vittoriosa contro la Francia e gli Stati Uniti che sono la Cina di allora questi sono i concorrenti dell'Inghilterra e in più tutti questi capitali che cominciano a girare con ulteriori innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni tutto questo comporta una possibilità di muovere capitali non solo a lungo termine ma anche a breve termine ora la il venire insieme di tutti e due questi fenomeni cioè la concorrenza dei nuovi produttori industriali contro l'Inghilterra e il diffondersi della dei movimenti di capitali a breve insieme a delle difficoltà abbastanza notevoli fiscali che l'Inghilterra incontra a partire dagli 1900 a causa della guerra boera tutto questo fa muovere il mondo in direzione di una inestabilità economica e finanziaria crescente resta il fatto però che quello che cambia veramente le cose è la grande guerra lo scoppio della prima guerra mondiale quando questa esplode e la vince la intesa l'Inghilterra per vincere veramente si dissangua e non c'è più niente uguale a prima dal punto di vista della situazione monetaria internazionale perché l'Inghilterra non è più in grado di esportare capitali perché si è giocata tutti i capitali investiti in un centinaio d'anni in 50 anni sicuramente vendendo i propri assets cioè i propri investimenti specialmente negli Stati Uniti agli Stati Uniti contro forniture belliche dirette contro forniture di materie prime contro prestiti accesi con gli americani quindi dopo la prima guerra mondiale troviamo che gli Stati Uniti emergono come il paese che è veramente il più grande e importante paese economicamente finanziariamente del mondo paese creditore da tutti i punti di vista e c'è un'accumulazione rapidissima da parte di tutti i paesi vincitori che hanno preso a prestito dagli Stati Uniti avendo dovuto importare dagli Stati Uniti prodotti agricoli specialmente prodotti industriali e gli Stati Uniti sono preoccupatissimi del ritorno alla situazione di pace smorsi queste possibilità di esportazioni alle quali si sono abituati e allora non sono disposti ad accettare una rivalutazione del dollaro che tenga conto di questa mutata situazione in più non sono assolutamente disposti a condonare nessun tipo di credito a nessuno però quello che succede succede veramente dopo la seconda guerra mondiale e allora cambierà tutto l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dei crediti che anche quella volta hanno accumulato nel periodo tra le due guerre invece questo non è un problema che non si risolve allora si cerca di tornare al gold standard quindi si deve fare il gold standard ma si deve fare senza oro e allora si inventa il sistema del cambio aureo con per economizzare l'oro gli americani che hanno tutto l'oro del mondo non sono d'accordo non vogliono il sistema del gold exchange standard vogliono il sistema aureo e dove possono lo impongono prima di tutti gli inglesi riportano la stellina al gold standard e prima di tutti se ne vanno svalutano la stellina e questo nel 31 settembre nel 31 viene a cambiare le carte in tavola completamente inaugura una quindicennio di storie terribili per l'Europa e per il mondo che partono dalla segmentazione dei mercati il collasso del commercio internazionale le autarchie diffuse per il resto finiamo come si sa con un'altra guerra e da questa guerra veramente emergono gli Stati Uniti come la superpotenza e quindi può dettare le regole della ricostruzione monetaria rimane quindi solo il paese guida la prima volta che succede molto di più chiaramente che i tempi della supremazia inglese perché il governo americano è retto da avvocati e gli avvocati credono nelle leggi credono nei trattati credono nelle regole scritte infatti per la prima volta abbiamo un sistema il sistema di Bretton Woods monetario internazionale stabilito con regole giuridiche con un impianto giuridico e che rappresenta le necessità e i desideri della potenza egemone in maniera determinata forza e scritta sono regole però che tengono conto del fatto che il nuovo modo di gestire l'economia che è uscito da due guerre mondiali non è per niente simile al liberismo economico abbiamo invece un sistema dirigistico perché negli Stati Uniti ha prevalso il New Deal il New Deal crede nell'economia diretta l'economia diretta è quello che sta alla base del nuovo ordine economico e monetario internazionale quindi si tratta di un ordine monetario internazionale economico internazionale dirigistico organizzato dai governi ed è fatto apposta per evitare c'è scritto che si verifichino quegli eventi negativi come può essere come possono essere i grandi movimenti di capitale internazionale a breve termine che hanno squassato l'economia mondiale tra le due guerre combinando una quantità di guai che devono essere esorcizzati in questo periodo che dura fino al 1971 i governi sono in prima fila e in prima fila tra tutti i governi c'è il governo dell'Italia che ha delle proprie strategie da proporre per massimizzare la liberalizzazione degli scambi commerciali a costo di bloccare o di reprimere i movimenti di capitale in più credono che con gli scambi internazionali liberi si possa anche convincere i paesi ex protezionisti cioè essenzialmente quelli che hanno perso la guerra ma anche l'Inghilterra che è diventato un paese dirigente e protezionista e anche la Francia che è sempre stato e poi è tornato particolarmente ad esserlo a liberalizzare gli scambi di merci quindi da creare il ceto degli esportatori è un fatto è un'attività alla quale si dedicano gli americani e ci riescono e convincono alla fine una buona parte di industriali europei a marciare sotto le bandiere dell'esportare a tutti i costi ma perché? perché i cambi sono stati fissati a tassi molto sacrificati cioè molto bassi il sistema monetario internazionale ha ancora un legame con l'oro ma il legame con l'oro riguarda quasi esclusivamente gli Stati Uniti perché il dollaro è legato all'oro e poi tutte le altre monete sono legate al dollaro e in più il sistema è a cambi fissi però si può anche cambiare la parità ma lo si deve fare discutendone all'interno del fondo monetario internazionale che è una delle istituzioni di governo dell'economia internazionale creata imposta agli Stati Uniti questo è un sistema che si funziona si mette a funzionare ma specialmente perché gli americani abbandonano l'idea che i debiti degli altri debbano essere ripagati e gli ricondonano con questa gigantesca operazione che è il piano Marshall che veramente ha avuto una funzione sia reale che psicologica fortissima per i paesi che lo hanno ricevuto quindi questo discorso è estremamente politico strategico e comporta anche la difesa dell'Occidente cioè delle spese politico strategiche americane all'estero enormi ora la situazione quindi cambia radicalmente tra Europa e Stati Uniti in un periodo brevissimo periodo brevissimo che rimette in discussione tutto quello che è stato deciso negli anni dell'immediato dopoguerra quando gli europei tornano in grandissima forma con la formula a loro obbligata degli Stati Uniti cioè esportare a tutti i posti creare una delle economie basate sulle trainate dalle esportazioni e ci riescono molto bene ora il discorso della trasformazione strutturale della situazione economica mondiale è così veloce che prende di sorpresa gli americani gli americani realizzano in ritardo quello che gli sta capitando e in effetti quando lo realizzano e cioè che il dollaro non è più in grado di stare al centro del sistema di un sistema di cambi visti giocano come hanno fatto gli inglesi giocano ad anticipo sono loro nel 71 a levare a togliere il collegamento l'aggancio del dollaro all'oro e questo determina una catastrofe monetaria internazionale poco dopo induce direttamente la crisi del petrolio e cioè l'adeguamento dei prezzi che erano fissi al nuovo valore del dollaro e da quel momento entriamo in un regime di cambi fluttuanti contentativi che da quel giorno ad oggi si sono alternati di o predicare veramente i cambi fluttuanti come regola oppure di creare delle zone monetarie unificate e queste soluzioni che riguardano essenzialmente però l'Europa non riescono a durare a lungo fino a quando si tratta di unioni di cambi cioè di monete che mantengono la loro individualità ma che sono strette da cambi fluttuanti come regola possiamo dire che gli accordi di cambi fluttuanti in Europa vanno bene quando il dollaro è forte e quando le pressioni sulle esportazioni europee non sono forti parlare dell'euro mi sembra abbastanza difficile perché non so se come spero sia una cosa che va per sempre oppure come diceva il nostro compaesano Giovanni Battista Vito ci sono anche in questo caso i corsi e i ricorsi certo distruggere una moneta unica è molto più difficile che distruggere un accordo di cambi perché si è risolto il problema che non si era mai voluto risolvere una sola moneta distruzione di tutte le altre monete una unificazione monetaria vera mentre prima si faceva e si diceva si diceva siamo d'accordo però ognuno si manteneva una posizione sulla quale cadere ricadere se necessario noi ci siamo messi da una parte l'oceano e dall'altra una roccia alla quale non si può aggrapparsi cioè siamo senza una fallback position e quindi o si impara a nuotare o si ha poca e credo che noi abbiamo già imparato a nuotare e continueremo a nuotare anche se probabilmente con costi elevati per parecchi sulla nostra pelle abbiamo visto che cambiamenti di questo genere non è necessariamente tutto rose e fiori ma temo che ci dovremo restare almeno fino a quando io vivo grazie grazie a tutti